ecco mamma ho comprato tutto quello che mi hai chiesto eccoti e meno male ecco qui l'olio il pane il riso e le uova? le uova si amigail le uova? ah le uova le uova le uova non c'erano non c'erano e poi ho sentito che probabilmente ehm non venderanno più le uova no nel supermercato non venderanno mai più le uova amigail ti sei scordata di comprare le uova? si mi sono dimenticata lo sapevo muovila